Vedi, non sono ancora avvocato. Bruiser, di solito, mi chiede di controllare i casi di assicurazioni che arrivano. Lavoravo per la specific mutual insurance company. Mi sono stufato e studiato legge. Non c'è niente di più eccitante che inchiodare una compagnia di assicurazioni. Vedi, a giurisprudenza, Rudy, non ti insegnano quello che ti serve. Solo teorie, nozioni elevate e grossi libroni di etica. Io penso che un avvocato debba lottare per il suo cliente, evitare di rubare soldi e cercare di non mentire. Le cose basilari, sai? Quello che non ti insegna una giurisprudenza ti può inguagliare. Sta per succedere qualcosa. Ne sono certo. Cosa c'è dietro tanta generosità? Dai, piantala. Così? Ieri uno dei vecchi soci di Bruiser ha testimoniato davanti al gran giurie. Per me si è accordato. È solo questione di tempo prima che canti su Bruiser. Preparati a sloggiare. Quanti soldi hai? 5.500 dollari. Anch'io. Prendiamo in affitto un piccolo ufficio, 500 dollari al mese. Tiriamo la cinghia per i primi sei mesi. Sarebbe bellissimo. Spartiamo tutto, tutto, esattamente a metà. 50 e 50. Costi, spese, profitti, tutto. Esattamente a metà. Che c'è? Non vuoi essere mio socio?